Buongiorno, sono Fabio Ceol, lavoro per la ditta S&B, sono un tecnico commerciale e rappresentante di aria per quanto riguarda il nord-est. S&B è una società di distribuzione, strumentazione e software, è nata nel 2013, anche se l'attività del nostro gruppo è precedente, nasciamo alla fine degli anni 90, quando ci chiamavamo 012 d'Italia, in quanto filiale italiana della ditta 012b, oggi ACOM. Ci occupiamo fondamentalmente di acustica e vibrazioni, anche se da qualche anno abbiamo ampliato il nostro campo a quello che è il monitoraggio in campo ambientale per contribuare all'inquinamento dell'aria e ai campi elettromagnetici. Collaboriamo con diverse ditte, per cui siamo i rappresentanti in esclusivi in Italia. La prima, ovviamente, principale, quella che seguiamo e con cui collaboriamo da oltre 20 anni è 012b, oggi ACOM, che produce strumenti e software per la misura del rumore e delle vibrazioni. Non possiamo poi, ovviamente, dimenticare Data Acustica, un altro nostro partner con più di 10 anni di collaborazione, una società che produce software per ambienti interni ed esterni e poi altre case rappresentate come CAE, per quanto riguarda la strumentazione per le camere acustiche, M+, P per gli strumenti multicanali e, ultimamente, CUNAC per quello che riguarda l'inquinamento dell'aria e XM per l'elettromagnetismo. La S-Ambiente è specializzata, come dicevo prima, nel campo dell'acustica e delle vibrazioni. Per quanto riguarda l'acustica, seguiamo praticamente tutto a 360 gradi dagli strumenti per misure fonometriche più semplici, come possono essere quelle in ambienti di lavoro, ai monitoraggi ambientali, senza dimenticare la parte relativa all'acustica ed elizia e architettonica. Oltre alla strumentazione di tipo classico, quindi fonometri e schede d'acquisizione, abbiamo anche altri prodotti, come quelli che si vedono qui dietro di me, che sono appunto le camere acustiche molto interessanti per individuare i punti più rumorosi di una certa area inquadrata. Oltre all'acustica ci occupiamo anche di vibrazioni, con strumenti per la misura più semplice, sempre all'interno di quella che è la panoramica delle misure in ambienti di lavoro, fino agli strumenti multicanali per il monitoraggio delle vibrazioni su strutture. Non ci limitiamo soltanto all'acustica e alle vibrazioni, abbiamo anche prodotti come le centraline CUNAC, che sono ottimi prodotti per quanto riguarda il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria. Sicuramente tra i nostri prodotti di punta dobbiamo parlare della strumentazione fonometrica, qui abbiamo il fonometro Fusion, che fa parte appunto del gruppo di strumenti Fusion, Cube e Duo, che sono strumenti estremamente versatili e di ultima generazione. Parliamo di fonometri che rispetto a quello che avveniva non più di 5-10 anni fa, sono dotati di un modem interno, di una connessione Wi-Fi, di GPS, che vi rendono estremamente utili sia per le misure più comuni sia in ambienti di vita che in ambienti di lavoro, ma soprattutto per le misure di monitoraggio, potendo gestire lo strumento a distanza comodamente dal proprio ufficio e sfruttando appunto tutti gli allarmi tramite SMS o email che lo strumento spedisce nel momento in cui si superano determinate soglie di livello oppure avvengono determinate altre situazioni. Una novità sicuramente che abbiamo portato qui alla FEDA Ambiente Lavoro, anche se per noi non è una novità in quanto è già da un anno che siamo distributori di questa strumentazione, sono le centraline di monitoraggio CUNAC per l'inquinamento dell'aria. Sono centraline di monitoraggio smart, estremamente semplici da montare e utili da gestire. Un tasto per accenderle, basta posizionarle dove è necessario posizionarle, hanno delle utility che le rendono performanti anche per quanto riguarda proprio la logistica del montaggio e poi una volta sistemato il tutto basta tornare in ufficio e gestire tutto, dalla configurazione del sistema di misura allo scaricamento dei dati e i record personalizzati direttamente da portale. La formula per evolvere e crescere non è facile da trovare. Diciamo che abbiamo la fortuna di avere un rapporto basato su molti anni di collaborazione e esperienza con i nostri fornitori e la capacità tecnica di essere d'aiuto ai nostri clienti. Questo ci permette, rimanendo al passo coi tempi con la tecnologia, di saper capire quali sono le difficoltà, le esigenze di chi fa le misure sul campo e riuscire ad avere quella capacità di portare le informazioni ai nostri fornitori che sono sempre attenti alle esigenze di chi utilizza la strumentazione. Sicuramente riuscire a rispondere alle esigenze dei nostri clienti e quello che ci permette di consolidare la nostra presenza sul mercato come è stato fino adesso e speriamo per il futuro.